Fari i conti con l'ambiente, 20 anni da Rio 92, siamo con il professor Franco Casali a cui chiedo di riassumerci il suo intervento di questa mattina, molto interessante. Io sostengo che i nostri beni culturali sono i nostri posti petroliferi inesauribili, le nostre miniere di carbone, eccetera. Dovremmo investire di più in questo settore. Questa mattina ho parlato di alcune tecnologie fisiche utilizzate per il restauro e la conservazione dei beni culturali. Questi beni culturali sono degradati sia per l'inquinamento atmosferico ma anche per l'intervento a volte distruttivo dell'uomo. Figuriamoci ad esempio gli effetti bellici. Questa mattina ho raccontato di un rifacimento di un antico globo del Coronelli che era stato bombardato nella Seconda Guerra Mondiale ed era, si trovava proprio a Faenza, nella biblioteca nazionale. Quindi dovremmo investire di più in questo settore. Il Dipartimento di Fisica ci sta lavorando e ha aperto anche una sezione qua a Bolo a Ravenna per indottrinare, per trasferire questa conoscenza ai giovani. Spero che questa mia suppica venga attolta, come tante altre, e si investa di più nella conservazione del nostro patrimonio culturale. E lo speriamo anche noi. Grazie e buon lavoro. Grazie.